Nell'ambito delle iniziative, promosse dalla Fondazione Carispezia e dalla Banca Locale, si è tenuto stamattina un incontro di volta agli studenti medi superiori. Un'iniziativa formativa che entra pieno nel percorso didattico di studio. È il presidente della Fondazione Matteo Mellei a darci il senso della giornata. Per la nostra Fondazione questa è un'iniziativa che rientra nel programma di formazione civica. È un programma ormai da qualche anno sperimentato con le scuole. Per la prima volta pensiamo che anche l'educazione finanziaria, la conoscenza dell'economia, dei meccanismi finanziari sia un modo per far crescere cittadini consapevoli, informati e protagonisti del futuro. Quindi qual è il messaggio che volete trasmettere a questi ragazzi? La cosa più semplice, vorremmo fare in modo che questi ragazzi assumano la consapevolezza che il futuro è sulle loro spalle e per affrontarlo meglio di quanto lo stiamo facendo noi, la mia generazione, devono avere strumenti in più, devono avere consapevolezza dei meccanismi, devono conoscerne i vari aspetti, devono poterli utilizzare in senso positivo. La finanza e l'economia sono strumenti indispensabili ma pericolosi. Devono essere utilizzati da persone competenti, assennate e che hanno uno sguardo anche per gli altri. Dopo il saluto e l'introduzione di Matteo Mellei e del direttore generale della Carispezia Carlo Piana, Paolo Gavini, responsabile del retail di Carispezia e Giovanna Boggio Robutti, direttrice generale della Fondazione per l'educazione finanziaria e risparmio, sono entrati nel merito dei contenuti. L'utilità della giornata è espressa dal direttore Carispezia Carlo Piana. Ma è uno scambio questa giornata, quindi l'utilità è di incontrare dei giovani, raccontare loro i concetti che sono importanti poi nella vita da utilizzare per la propria gestione, per la gestione del budget familiare e anche per sentire un po' il loro punto di vista rispetto alle loro esigenze, perché non dimentichiamo che ci nutriamo delle idee dei giovani rispetto a una banca che è in forte evoluzione, perché cambiano il modo di consumare la banca da parte di questi giovani. Un incontro utile a creare un clima di fiducia tra giovani e sistema bancario. Questa iniziativa si inserisce in un percorso. Noi siamo nelle scuole Liguri e Toscane già da un anno e mezzo, quindi non è che si esaurisce con una giornata questa discussione, ma è proprio un camminare insieme e parlarsi apertamente sui bisogni e se ci sono anche delle critiche rispetto a certi comportamenti. Ci piace analizzare quali errori, ma come ho detto prima, la prima forma di protezione per questi giovani è la conoscenza e la consapevolezza dei concetti base dell'economia. La prima forma di protezione è la conoscenza e la consapevolezza dei concetti.